Con calma, no, questo non funziona. Sospendo l'aula, sospendo l'aula per 5 minuti. Ha ragione però con calma. Sospendo l'aula, sospendo l'aula per 5 minuti. D'Ambrosio, D'Ambrosio, deputato D'Ambrosio, o esce il collega D'Ambrosio perché si è rivolto in maniera indecorosa ad un collega o si scusa in questo momento il collega D'Ambrosio o i colleghi del Partito Democratico non ritengono possibile proseguire la presenza in quest'aula per la seduta odierno. Le dico prima di tutto una cosa. Le strade che si possono opzionare rispetto ai casi che accadono in aula le decido io. Arrivederci. Scusate, scusate, mi state salutando. Avete ragione, avete... Deputato Fiano, ha ragione, ha ragione però con calma. No, questo non funziona. Ha ragione però con calma. Sospendo l'aula, sospendo l'aula, è in 5 minuti. Come c'è stata un po' di tensione, il Partito Democratico parte e stava uscendo e veniva sotto i banchi qui anche salutando e quindi uscendo io chiedo scusa per aver risposto a rivederci e oggi la seduta è ufficiale, io quando sbaglio e mi sono lasciato andare a rivederci è totalmente sbagliato quindi chiedo scusa al Partito Democratico da questo punto di vista senza alcun problema. È stata un mia colpa ed è stato un mio errore. Quindi da questa presidenza quando sbaglia ci sono sempre le scuse. Grazie a tutti.